Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato in direzione Roma nel tratto tra Valtarno e Arezzo. Sulla FIPILI personale su strada per lavori tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Mare. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggibozzi e Tavarnelle. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze per lavori senso unico in via Perfetti Ricasoli nel tratto tra Viale 11 Agosto e via Famiglia Benini. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.